Io si Non so dove sto soldando questo video Ma... C'è Moccia che sta giocando a un soldi Bumashkov, tu e la tua squadra restiamo nel suorio con Svetlana Guardate le tenniei Speriamo avanti e farvi sapere quando è sicuro Quieto, facciamo questo in modo facile Zeke, proviamo a prendere un po' di qui Covered a Bum! C'è Moccia! C'è questo? Si, adesso siamo fermati! Si, ho pensavo che mi abbia in porta C'è da un Danilo che l'inforzo? Sto riladendo! Se la bomba nella massa, tanto roba! Oh mio Dio! C'è un po' che ci sono, e non è bene! Sto riladendo la polvere! Ah! Ah! Dimi un secondo! Questa è la scuola della guerra! dottor petrova luoghi che si è chiesto l'intensore un uo che fa meravigliosi la ritorna 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 ho fatto attuali provato a punizioni Eh sì, bello! Oh, arrivano... Cosa sono? Sono amici? Oh! Ci sono questi negri! Figo, cazzo! Questo sarà definitivamente... Uh, lo ho già... Questo è il video che avevo visto! Cosa stai cercando? Porco Dias, ragazzi! Questo è il video che avevo visto, mochia è un casino! Eh, non mai! Credo che siamo a bassa bassa, però... Io! Ma qua a destra, forse, siamo liberi! No, cazzo! Arrivano anche la terra! Forco Dias! Oh! Eh, snap! Cazzo, cazzo! Ah, bravi da distanza! Cazzo, lì c'è un cattivone urlante! Cazzo, lì c'è un cattivone urlante! Cazzo, cazzo! Cazzo! Siamo sempre! Torn fascini. Perchetto! Cazzo, il capatoaro ha arrivato! Ok, tenere un pirac的 corrected! Ok, That answer. River! River thou! Arriva, cazzo! Uh, no me, ah! HePIER Essa door open! Guarda, guarda, guarda! Ok... Non credo che siamo soli. Ehm... C'è uno shotgun come arma terziaria che è tanta roba. E a ripetizione per le masse va benissimo. Quello ci va a destra, quello lì. Ah, sì, c'è la testa. Con l'arma terziaria è veramente... Questa c***a va a tornare a noi morti! Guarda fuori. Siamo vivendo in inferno. Struggendo ogni giorno per mantenere la nostra misericordia. Questa potrebbe essere l'unica chance di salvare la nostra città. La c***a è vero. Questo non è un tipo di vita. Allora, portate le difese e portatele a una distanza. Se portatele, siamo pronti. Ok... No, no, no. Dovete venire qua, ragazzi. Prepariamo le difese, cosa dobbiamo fare? C'è qualcosa che sta qui, io non posso sentire... Eh, ma prepariamo le difese, cosa vuol dire? No, le difese... No, zio, devi tenerla chiusa questa porta. Oh c***o! Eh, vabbè iniziamo! Vabbè, ormai... 35 secondi di andare a rispondere... Dime un secondo! Cosa cosa che davvero siano? Sì. Cosa. Oddio! Arribano. Cazzo, arriveranno a massa veramente. Uuuuh! Rettrate quando si te marcha, io tengo a sinistra. Ma quello è macho! Questo era il fucile che ti dicevi. Porco dio! Cazzo, cazzo, cazzo! Uuuuh! I zombie morti che partono! Dietro, 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 dietro! Sia, via, pistone! Non è qui. Potrebbe essere da niente? Non c'è una radio qui. Sia, via! Sia, via! La molla è giù a noi. Poi, è qui. Sia, via! Sia, via! Sia, via! Un luzzo mi fa fare il cazzo di coso. Apriamo la porta! Uuuuh! Primaria pompa, bello! Allora di un uccardo! Sia, via, che ci sono tanto! Un luzzo mi fa! andiamo andando a scuola scuola, scuola, uuuh, il sole buono cazzo, chi è che l'altro ha fatto? arrivano ah, la radio, la radio, dove cazzo è? uuuuh, non ci orco dio no, ho occhio e mi viene davanti a me stavo sparando io dall'alto ne arrivano due oh, c'è uno sull'altro la finestra, la finestra ho raggiunto, ho raggiunto cosa devo fare? ci sembra ci sembra come una catturina c'è una cattiveria dietro qualcuno è qui uuuuh, c'è una pettorina qua uuh, cattiveria dietro Oh Dio Gli altri dove cazzo sono finiti Oh quanto è morto Oh non è morto Non è morto Arrivano Grazie Please be lucky A me dice di raggiungere un'altra frada Fuori Fuori giusto? Sì Vai da dentro Non lo so nel momento c'è l'ambiente Non lo so C'è uno grosso C'è uno grosso C'è uno grosso Non va a terra la mozza non va bene oh madonna c'ho bisogno di un medikit subito minchia non ho consumato tutti minchia non ho consumato tutti minchia ho scassato la grande proprio fa schifo quella cazzogliata non posso dire che ho perduto questo posto non è vero non è vero oh mi sento wow è esplosivo paura non ho la palestra è esplosiva non ho non ho non ho non ho cazzo dobbiamo andare qua cazzo sto prendendo una cassa guarda un cazzo interessante avrete qua riglia elettrificata difensivo mi la metto nu via 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 indietro che c'è la griglia ho messo anche di noi ma perra di ciò ma perra di ciò здardo dove sei sei fì Giù cazzo, arrivo Stanno scappando di sopra Venite sopra raga che ci sono le griglie elettrificate Danno un po' di copertura Anche dove caricare Facciamo i medicats Sponti il radio, l'interno del marco, nessuno è qui Sto messo Sto messo Voltaggs grid live Big gun, ready to rock! Big gun, ready to rock! Mother Russia! Cosa è quell'arancione che corre? Un cattivo buono, un buono! Defensa, eccellente! Alguien, salta questa gun! E' tutto! Ho la chiesa! Time per andare! Oh! No, tu dove sei? No, dove sei? Allora, mi controlli che non arrivano da qua dietro dove sono io adesso? Che ho la torretta qua. Eh? Da qua? Allora dove sono? Eh, eh. Controlla che non salgono da qua. Io uso la... Eh, ma qua è un po' di me. Eh, ma io ho la torretta. Ah, guarda, guarda. Devi tenere solo... Guardate! Creeper! Se sei in caricolo, dìgliela. Ci vediamo. Ci vediamo. Eh, nel senso che non parla più di lui. Via 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 via. Oh, ho sbagliato la strada. Non ho finito. Oh, ho sbagliato la strada. Screamer! Non c'è nulla qui! Il Screamer ha bisogno di morire! C***o! Dove dobbiamo andare? Qua! Devo cercarne il cadavere! No! Non è lui! Devo cercare anche il cadavere! Vado a prendere l'altro cadavere! Non c'è nulla qui! Non c'è nulla qui! Oh porco di Dio! Boccio sei da solo, sei da solo! Come sono da solo? No venite con me che dobbiamo andare a cercare l'altra roba! C'è anche una torretta difensiva qua! Oh la monna! Che c***o è qua dentro? Vai! Non c'è la mia c***o di arco! Ok ce l'ho! andiamo tornando dobbiamo tornare alla radio ti dobbiamo proteggere vai ti viene andare tu io ti dobbiamo proteggere non so dov'è la radio morta è buono per andare cazzo dov'è giù di qua giù di qua rilasciando no Svetlana la devo portare Svetlana la puttana Svetlana la puttana sta arrivando un'ondata a a a a a gu app a ma anche iniziamo tutta una falsa posto ma di qua non sappiamo si si deve fare il giorno di prima zio ti devi mettere un po di vita però non ci sono più no cazzo sei già partito no è stato lui mi sa oddio dietro siamo belli tranquilli no mi sento mi sento da dietro oh da dietro simpatici sono arrivati oh ciccione ciccione scappa zio scappa c'è uno che mi sta giocando figlio di puttana oh c'è uno che mi sta giocando c'è uno che è lontanissimo raga doveva rimanere di là noi no era qua c'è la battaglia or codio guarda quanta gente c'è lì guarda vado su a prendere munizioni che sono a zero che cazzo di giro mi fa fare non è io sono fuori completa ah mi ha preso 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 oh perché non sparare oh 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 ecco oh come i m come 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 i come come i no c'è il tuo medico sembra sembra vieni vieni zio porco dio madonna crisaccia aspi orde fai via brutto zombie nove quel figlio di puntare uccisi non ha fatto un cazzo macellaio misto per infatti ha preso 22 danni ma no ma entrato alla fine pochi sani a vedere un po' che cazzo smasciato bacia qua classe classe vediamo puoi finire a terra una volta aggiuntiva ah è grande cazzo normalizzarla gira pompazza cosa mi da potenza maggiore o maneggevolezza